Sottopiatto la rubrica enogastronomica di Emilia Sensale E noi Emilia Sensale ce l'abbiamo live Quindi meglio di così che cosa possiamo chiedere effettivamente Care Emilia allora cosa c'hai di bello da raccontarci ecco in tema appunto enogastronomico Allora la sede l'hai detto tu sento che è passata Pasqua, è passata Pasquetta Tra l'altro Pasqua è stata una buona giornata anche dal punto di vista del medio Pasquetta, diciamo il sole è andato un pochino a nascondersi Però comunque non è che ci sia stata chica che piozza So che molti anni ci sono riusciti a fare la scampagnata, l'abbracciata insomma tutto quello che vuole tradizione E soprattutto molti sono messi sull'erba a mangiare il lavanto che c'era del casatillo e della pastiera del giorno prima E io proprio di questo vorrei parlare oggi perché in realtà casatillo e pastiera sono due portati Tipi che partono pei che fanno buono per tutto l'anno Io almeno ne faccio tutto l'anno e non solo a Pasqua E quindi mi sembra tutto parlare di queste due meraviglie E io sono sicuro che il buon Federico E tra l'altro è tornato anche Luca in questo momento Che ti faccio salutare No Luca! Buonasera! Buonasera alla nostra Cuca Allora che cosa ci avete preparato questa sera? Ok facciamo l'inverso Luca prima e poi tu Ok allora dai cosa ci hai preparato? Allora vi dicevo io semplicemente stasera volevo dare la ricerca e comunque parlare del casatillo e della pastiera Inizierei con quella che la storia più affascinante sia la pastiera Non si dovrebbe iniziare col dolce però in realtà la vita ha bisogno di dolcezza Certo Non si dovrebbe iniziare proprio dalla pastiera Perché in realtà non tutti sanno che la pastiera ha una sua leggenda Una sua storia, una sua tradizione Secondo appunto questa leggenda sarebbe nata quando molto molto tempo fa Su una spiaggia partenopea non specificata Le moglie dei pescatori preoccupate per la tempesta che stava arrivando dall'orizzonte Una sera lasciarono sulla spiaggia delle ceste, dei grandi cestini con della ricotta E la frutta candita, il grano che questo è il periodo del grano E di nuovo e poi dei fiori di arancio Tutto questo come offerte per Nettuno, per il mare affinché i loro mariti potessero tornare a casa a sani e salvi Cosa dice la leggenda? Che in realtà la tempesta bastò Arrivò il sole il giorno dopo ed era così bello, splendente, lucente Che fece modo di mischiare tutti gli ingredienti Un po' come se fosse un forno etereo, diciamo così, secondo questa leggenda Quindi i mariti tornarono dalla loro pesca Andrò, soppeggono e poi ritrovarono questo dolce pronto nei cestini E così sarebbe nata la pastiera Aspetta, non è male poi Io sono un goloso Ci vuole anche un tocco storico Perché comunque ricordo ai cari amici che noi trasmettiamo da Napoli E quindi chiaramente la pastiera è un dolce tipico napoletano Decisamente Hai altre curiosità anche da Federico, visto che ci siamo Volevo sapere da Emilia se, a base alle sue ricerche Se la ricetta per la pastiera è una ricetta classica e delle varianti Quali sono le linee guida per quanto riguarda la ricetta? Cioè le varie opinioni su in che modo vada fatta per essere sempre buona al palato? Allora, l'originale ricetta, cara Federico, in realtà userebbe Il grano, tra virgolette, originale Che è proprio il grano che andrebbe preparato in caso Sia messo in ammollo, un po' come si fa con i fagioli Almeno la sera precedente della preparazione E poi cotto in casa nostra In abbondante acqua bollente e salata Ora, poiché in realtà non tutti fanno il grano in caso proprio Si compra il classico grano, quello che si trova nei caldetti E comunque bisogna preparare la famosa crema con latte Prima di mischiare il resto della ricotta e degli ingredienti Però ovviamente crea molta più facilità per la preparazione della pastiera Rispetto allo fare da capo E con il grano, a trasformare il grano per la pastiera Non a caso poi questo è un dolce di grano Proprio perché dovrebbe essere il simbolo della primavera Dei campi che regalano il grano E quindi ecco Quindi è un simbolo rigoglioso per l'avvento della primavera Esatto In mezzo alle varianti che mi hai chiesto tu In realtà la pastiera classica è quella Poi lasciamo appunto da parte il discorso grano non grano Poi oddio Se uno vuole usare varianti Ci sta il famoso uso della crema pasticciera In realtà la ricetta originale Non prevede l'uso della crema pasticciera Che comunque oggi si porta molto O anche molte pasticcerie rinnovate Usano la crema pasticciera Però ricordo comunque che Nella ricetta tradizionale non è presente Detto ciò Poi uno volendo può fare misi varianti C'è chi aggiunge molta frutta a cantica all'interno Molto cedro C'è chi aggiunge molte fialette Sapete no? Le fialette quelle dei migliori Dei fiori d'arancio C'è chi provò il gusto per troppe fialette Poi mi ho visto delle cose un po' particolari C'è chi ci ha inserito il disbacchio Il dolce di cioccolato Insomma ognuno la fa come meglio crede A discapito della tradizione fra l'altro A discapito della tradizione fra l'altro Esatto ma la ricetta originale è quella Ma anche perché ripeto La pastiera a proposito della leggetta È un simbolo C'è il simbolo di questo periodo Il latte che è il simbolo della madre Che allatta il bambino Questo è bello mi piace Questo è il simbolo della primavera e della rinata Questa è una bella cosa Questa è una bella cosa davvero Possiamo immaginarci una scena Emilia però perdona Ti ho interrotto bruscamente Continua il tuo racconto Perdonami No ma stavo semplicemente concludendo Per rispondere in finale a Federico Che la ricetta originale è quella Se volete il mio consiglio Lo direi ai nostri radioascoltatori Seguite assolutamente la ricetta originale Muova, tante muova Anche quello simbolo ecco Di nascita e di rinascita Non a caso le muova di Pasqua Muova, ricotta La pasta frolla Che consiglio assolutamente di farla in casa Quella che oggi pure nulla Si compra bella e fatta E' bella e cara però Insomma La produzione casalinga insomma è un'altra cosa Anzi dite ai nostri radioascoltatori Se me lo permette Certo Per fare la pasta frolla Che può servire anche per altre crozzate Di che consiglio che do Usate assolutamente zucchero a bello Deve essere uno zucchero impalpabile Assolutamente per il semplice motivo che Il guaio della pasta frolla Che tende a spalparsi in mano Allora per se uno mette burro Non riesce assolutamente a restare compatta Il trucco è usare lo zucchero che sia il più sottile possibile E' un trucco che uso da quando ho notato questa cosa E devo dire la verità mi trovo bellissimo L'ho consigliata a tutte le mie amiche Tutte quante mi stanno ridendo E quindi lo dico anche ora ai nostri radioascoltatori Ecco quindi anche il pubblico ti dà ragione Ecco ti viene incontro Da questo punto di vista E poi effettivamente è odiosa Quella pastiera che si sfalda in mano Perché uno se la vorrebbe godere E poi ti cade E c'è quell'effetto effettivamente Molto fastidioso Eppure la cottura mi raccomando Con tutto il cuore Ho scritto un paio di pastiglie Da altri miei amici Che hanno pubblicato Sapete no? C'è molto il social Per pubblicare i prossimi Sì decisamente Hanno pubblicato delle pastiere Particolarmente bruciate Ahia Male male Non giudico a chi piace Però la cottura della pizza Deve essere quella Quella della pastiera Mi raccomando Deve essere Deve iniziare a dorare nel forno Deve splendere di luce dorata Il trano ecco Deve essere d'oro Non deve essere assolutamente troppo botta Ecco Il nostro trucco L'ultimo che mi viene ora a mente Per poter dire i nostri radioascoltatori Molte pastiere Hanno il difetto Che hanno poi l'appassamento centrale Non è un difetto di qualche tipo Però si può evitare Semplicemente riempite il più possibile La pastiera del composto Della crema di grano E ricotta e nuova In modo tale Che una volta che avete raggiunto La parte più alta Non avrete questo problema Non sarà assolutamente liscia La pastiera Mi raccomando Le famose strisce Quelle non vengono messe In realtà Per bellezza Come molti pensano Non vengono messe appunto Per evitare Che il composto all'interno di crema Possa alzarsi troppo Durante la costiera In sostanza per evitare disastri Mettiamola così Esatto Allora volevo E' un po' di cuscetto Ma Possibilmente Di crema di chiamo Volevo chiedere a Emilia Un consiglio Per quanto riguarda La circonferenza E il diametro Dei ruoti Da usare Per quanto riguarda La pastiera Allora La famosa ricerca Luca Giusto me l'ha chiesto No Federico Il buon Federico Sono io E' come se te lo avesse chiesto anche Luca Non ti preoccupare Perché è un curiosone E' assentato per ascoltare Vi dicevo La famosa ricerca Quella che è presente Sui datenti di grano colto Che si trovano sul mercato Parla di una pastiera Per quattro persone O per dodici A seconda insomma Delle lezioni Con un fiuso Solicamente 700 grammi C'è il numero 7 7 uova E ne ripetuto Più di una volta Nella ricerca Quel tipo di ricerca Lì è per un uoto Per uno stampo Di diametro Di 30 cm Quindi una bella pastiera In realtà Il doccio della pastiera Almeno da quelle Che sono state Le prove Non ha difficoltà A essere fatto Sempre più grande Possono essere Le pastiglie piccole Quelle che pure io faccio E che si trovano Anche tutto l'anno Nelle pastiglie Qui a Napoli Come può essere Una pastiera Come l'ultima Quella che ho fatto a Pasqua Di un diametro Di circa 30 cm Non c'è Una grande differenza Né c'è un consiglio Da dare Possibilmente Fatene quanto più possibile Così uno Ha più giorni Di golosità Da poter vivere Ebbè Emilia Prima di salutarci Ci inviterai A degustare Questa pastiera Visto che hai detto Che la fai Tutto l'anno Noi se vuoi Possiamo venire Togli ospiti Più che volentieri L'ultima cosa Voglio dire Il merito a Casagliello Che pure Certo Certo Voglio dire Che proprio La volta Che c'è Una differenza Tra tortano E Casagliello Ecco Mai Casagliello Come viene Due su tre Insomma Chiamato Casagliello Di solito Viene indicato Il casagliello Per la presenza Delle uova Il famoso cestino Con la pasta Del casagliello Che viene messo sopra Di solito Dal punto di vista Adicino Quando vedete Le uova Sopra Alla Alla torta Insomma Al piatto È Casagliello Non è torsano La differenza In realtà Non è Nel contenuto Dal punto di vista Di formaggi E tutto il resto Anche se Insomma Le uova Fanno La differenza È proprio Nell'uso Della sogna Mi torsano Tende Solitamente Ad avere Più strutto Più sogna All'interno Del composto Quella è la differenza Di ci vuole E non è una differenza Da poco Effettivamente Esattamente Emilia Io Voglio ringraziarti Per questo Gustoso Appuntamento Per questa Apri pista Di sottopiatto È stata Veramente Una cosa Eccezionale Anche perché Ora tra poco Andiamo a mangiare Dopo la diretta Quindi È una bella fame Effettivamente A me mi ha fatto Un'infame Questa è la Luca Ecco Questo ha fatto Un'infame Come spero Non per capire Anche a voi Questi dati ascoltatori Vuol dire che Ho cercato L'obiettivo Per la rubrica Obiettivo raggiunto Abbiamo scorciato Tutte le curiosità E speriamo Che abbiano preso Appunti Inosticati Radio Amici Di tutta Italia Esattamente In ogni caso Potete È vera che dare L'appuntamento Per il prossimo appuntamento Con il sottopiatto Di ringraziarvi E di continuare Ecco Invito tutti A continuare a seguire Assolutamente Per la tua frontiera Grandissima E ottimo promo Fra l'altro E noi ci risentiamo Settimana prossima Con un nuovo Contributo Emilia Grazie da parte mia E anche dai nostri Ringrazio Emilia Come sempre impeccabile E puntuale La rimandiamo Alla prossima puntata Di Parole Libertà Un saluto a voi E a tutti i nostri Dagli ascoltatori Grazie Emilia A presto Ciao Ciao